Quando mai hai preso il pullman in vita tua? Io con te non parlo Quando i cittadini di Taro devono sapere che questo signore non ha mai preso il pullman in vita sua E ora deve fare la scenetta Luigi, Luigi Ora deve fare la scenetta Come va con Melucci? Cos'è successo con Melucci? Ma che... No, no, ai cittadini lo devi spiegare Devi spiegare ai cittadini Quattro anni e mezzo con Melucci Solo ora scopri il degrado? Madonna mia ragazzi Ora parla di degrado Io con te non parlo È stato segretario provinciale del PD È vero Ha fatto la scoperta dell'America E ora con chi sei allegato? Col centrodestra? Bravo Di chi sei allegato del centrodestra? Rispondi Chi è quest'altro signore? Chi è quest'altro signore? Non lo so chi sei A me mi devi sentire Non lo so chi sei tu Posso saperlo? Cosa fai? Minacci? Quest'uomo era segretario provinciale del PD? E ora si presenta col centrodestra Il popolo di centrodestra non lo può votare Salti in banco politico Sono fatti migo del mio messaggio No, no, lo devi dire ai cittadini Di cosa vivi? Puoi dire di cosa vivi? Io lo sai di cosa vivo Parliamo della campagna elettorale Chi ti sta finanziando? No, 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 Luigi Chi ti sta finanziando? Rispondi Sono soldi tuoi Tutto lecito, eh Soldi tuoi o qualcuno ti finanzia? Rispondi Qualcuno ti finanzia? Luigi Io con te non parlo Questo locale quanto ti costa? Dillo, dillo Quanto ti costa? Io con te non parlo Lo devi dire ai cittadini Facciamo vedere Abbiamo fatto un bel comizio I cittadini Tutta la campagna elettorale Tutta così sola deve fare I cittadini di Taranto Devono sapere che questo signore Rifiuta i dibattiti pubblici Facciamoli qui Hai amministrato quattro anni e mezzo Con Melucci Facciamo vedere Pino Quattro anni e mezzo con Melucci Beh Cosa hai fatto in quattro anni e mezzo? Tu nella vita sei Tu sei trombato cronico politicamente Mi dici tu quali sono stati i tuoi risultati nella vita politicamente parlando Consigliere circoscrizionale di Taburi e basta No, non è vero Ha detto un'altra bugia Non l'ho mai fatto Allora, neanche eletto alla circoscrizione Non l'ho mai fatto Neanche eletto alla circoscrizione I cittadini devono sapere Facciamo vedere Quest'uomo, segretario provinciale del PD È vero? Vero, quattro anni Due anni fa candidato con Emiliano Ora è alleato della Lega Volta a Gabbana Sei un saltimbanco politico Avete visto? No, te l'ho detto da prima Saltimbanco politico Rispondi La clac È sciapita Una che applaude la moglie Buonasera Poi Tua cugina non c'è l'ex assessore di Melucci? E chi lo sa? Io faccio l'imprenditore, amico Tu che mestiere fai nella vita? I cittadini Di cosa vivi tu? I cittadini si informano sul mio curriculum Che è pubblicato E quale? Di cosa vivi? Di cosa vivi? Un uomo che dal PD Due anni fa Candidato con Emiliano Ora di Citaran Toschiava di Emiliano Sono una persona professionalmente realizzata E anche io, grazie a Dio Anche io Andiamo avanti Chi ti sta finanziando la campagna elettorale? Oh mamma Dillo ai cittadini Io ho speso 2000 euro di campagna elettorale Tu quanto hai speso? Chi sta spendendo per te? Se non sei tu direttamente Sarà sul bilancio E dillo, 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 dillo Dillo pubblicamente Pubblico, è pubblico A te non lo dico A me non lo dico Dillo a tutti Quanti cittadini abbiamo? Facciamo vedere Pino Facciamo vedere Rispondi Quando mai sei andato al mercato? Scusate A fare la spesa al mercato Scusate Lo facciamo Scusate Prego Sono qui fermo Abbiamo fatto il comminio E anche io Signore senza mascherina Continua a spucchiarmi E tu la mascherina ce l'hai? Ah io non devo averla Ah tu non devi averla Tu non devi averla E allora manco io Non ti dico avvicinare E allora manteniamo la distanza Non ho capito Lui è esente Lui Lui è esente Lui è esente da Covid Quanti vaccini hai fatto Musillo? Sono fatti i miei No il Covid cos'è? Hai sconfitto il Covid Sono fatti i miei Sono fatti Ma qual è il tuo lavoro? Possiamo saperlo? Mamma mia Non te lo dico Dillo ai cittadini Di cosa vivi? I cittadini si potranno informare Non lo dico E dillo Io sono imprenditore I cittadini si potranno informare Dal mio curriculum Ecco L'amico di Emiliano Auguri Gli auguri ce li siamo dati a Pasqua E ce li ridiamo per No adesso nessuno auguri E il 25 aprile Cosa cantiamo? Cantiamo bella ciao Non la canti più? E domani Su quale pullman vai? Su quale pullman? Questo signore C'ha una macchina Di 30-40 mila euro Prende il pullman Fa vedere ora Che prende il pullman Candidato sindaco Prende il 3 Beh, buona serata Buona serata